Chiediamo al Signore la virtù della pazienza, propria di chi si mette in cammino e di fronte alle difficoltà della vita le prende sulle sue spalle con amore e non con rassegnazione. Lo ha detto il Papa nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta guidato dalla prima lettera di San Giacomo in cui è scritto «La vostra fede messa alla prova produce pazienza». Accade anche, ha ricordato ai cristiani perseguitati in Medio Oriente, che come Gesù sono entrati in pazienza, offrendosi cioè alla propria missione fino alla fine. «La pazienza significa portare su e non affidare un altro che porti il problema, che porti la difficoltà. La porto io. Questa è la mia difficoltà, è il mio problema. Mi fa soffrire? Eh certo, ma lo porto. Portare su e anche la sapienza, la pazienza e la sapienza di saper dialogare col limite. Ci sono tanti limiti nella vita, ma l'impaziente non li vuole, li ignora, perché non sa dialogare con i limiti. C'è qualche fantasia di onnipotenza o di pigrizia, non sappiamo, ma non sa. C'è qualche fantasia di onnipotenza o di pigrizia, non sappiamo, ma non sa. C'è qualche fantasia di onnipotenza o di pigrizia, non sappiamo, ma 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 non sappiamo.